Buonasera dalla TG Regione in apertura alle questioni economiche, un quadro fosco quello che emerge dall'ultimo studio della Fondazione Nord-Est sull'economia del Triveneto, fanno eccezione i dati di crescita delle aziende trentine. Stefano Marcucci. In questa fase Trento in controtendenza rispetto agli altri territori sembra mostrare una fase di recupero. E' questo il dato più rassicurante fornito dall'ultima ricerca della Fondazione Nord-Est presentata oggi presso la sede della Banca di Trento e Bolzano. Oggi il 40% delle imprese dichiara di avere una produzione in crescita, un anno fa era solo il 17%, quindi è un dato importante. Così anche le aspettative per i prossimi sei mesi sono positive e quasi la metà delle aziende ha ordini assicurati per almeno tre mesi. Per il resto lo studio registra un quadro di forte pessimismo in tutta l'area del Triveneto. Rallenta anche l'Alto Adige dove il 44% degli imprenditori dichiara di aver visto una contrazione degli affari nei primi sei mesi dell'anno. In Trentino il punto debole continua ad essere la scarsa propensione all'export. Solo un'impresa su sette vende all'estero. E' la nostra sfida per il futuro, dice Matteo Lunelli delle cantine Ferrari. Altro punto caldo, la liquidità che le banche sono disposte a mettere a disposizione delle aziende. Per la BTB parla il presidente Mario Marangoni. Questo problema per il momento non lo sentiamo, anche se la liquidità la dovremmo naturalmente dosare con molta parsimonia.